Il rischio a tutto è stata una trasmissione innovativa per la televisione dell'epoca, un quiz nuovo, perché i quiz precedenti, come era la Shora Doppia, Mike Buongiorno li definiva quiz a manovella, e invece con il rischio a tutto c'è stata la grande novità dell'inserimento dell'elettronica, del tabellone, che era anche una novità rispetto all'idea originale che era quella del gioco americano che si chiama Geopardy, a cui si era ispirato Mike Buongiorno. Mike introdusse il tabellone elettronico che spettacolarizzava il gioco, che poi c'era la sfida 3 tra i concorrenti nel gioco del tabellone, e anche questa era una grande novità, rendeva più avvincente, non c'erano poi limiti di vincita, quindi si poteva arrivare, a differenza di la Shora Doppia, dove comunque c'era una quota finale, la possibilità di vincere era illimitata. Quindi tutti questi ingredienti hanno reso spettacolare, innovativo il rischio a tutto, con una formula che funziona anche oggi. Stiamo vedendo le immagini di una puntata storica, quella del 16 luglio 1970, quella in cui Giuliana Longa riperse il titolo di campionessa in carica a favore di un'altra Giuliana, Boarivant. Però noi ne parliamo anche perché c'è stato un concorrente bresciano che è passato alla storia per altri motivi, da Lumezzane, Ettore Franco, Stefini, uno dei tre concorrenti bresciani. Perché passò alla storia? Stefini passò alla storia perché è stato il primo concorrente a chiudere sotto zero, per cui in quella situazione Mike Bongiorno anche lui non sapeva all'inizio come procedere. Quindi è stato il primo caso in cui il concorrente che arrivava alla fine del gioco del tabellone sotto zero non poteva quindi partecipare al raddoppio e solo durante la trasmissione, o meglio, durante la registrazione in pratica si venne a sapere poi quello che era il meccanismo effettivo del gioco e quindi in qualche modo ha svelato questa parte delle regole che non erano ancora note perché non era mai capitato fino ad ora una situazione simile. Un personaggio che vinse invece molti soldi e poi aveva una storia particolare perché si fece prete e oggi tra l'altro non ricorda nemmeno volentieri la sua partecipazione alla rischia tutto, abbiamo tentato di contattarlo inutilmente. Che personaggio era Rolfi? Rolfi è passato alla storia perché oltre ad essere stato uno dei grandi campioni della prima serie del rischiatutto delle prime tre edizioni, rifiutò di partecipare alle finali a cui aveva diritto e quindi questo lo rese poi in qualche modo ancora più noto il gran rifiuto appunto di Rolfi che riteneva chiusa la sua parentesi al rischiatutto e quindi per quello è stato poi l'unico concorrente a rifiutare la possibilità di apparire di nuovo e naturalmente anche di incrementare la propria vincita. E poi è passato anche recentemente agli onori della cronaca perché poi è diventato nel frattempo parroco a Firenze e ha fatto poi notizia anche per un presepe particolare negli anni scorsi. Un terzo concorrente, Giacarlo Piovanelli, non la spuntò contro un concorrente abbastanza scorbutico, non simpaticissimo Claudio Volontieri. Sì, Piovanelli sfidò il campione in carica che era Claudio Volontieri, è una sfida anche molto avvincente, risoltosi solo alla fine del gioco. Volontieri era appunto un campione molto curioso perché era in cabina, non stava molto alle regole televisive, tant'è che si narra addirittura che Turchetti lo spostò appositamente da una cabina all'altra per esigenze televisive, aveva spesso a che fare i fatti, proprio anche nella puntata con Piovanelli contestò delle domande, infatti lui veniva anche soprannominato, era un po' un contestatore, infatti anche con Mike Bongiorno aveva spesso dei litigi, tra l'altro vinceva sempre pochissimo, per cui alla fine pur vincendo abbastanza puntate non riuscì poi ad arrivare alle finali e infatti il concorrente addirittura che lo batte in una sola puntata vinse più di quello che vinse Volontieri in un'unica puntata sola.